ora ci sarà il filmato finale dove loro si ricongiungono con le loro mogli ora diventiamo amiconi con le nostre due mogli tu vuole la quattro formaggi giusto? quattro formaggi con patatine fritte che stai facendo? dovremmo arrivare in 10 minuti ok cosa sta facendo? dormire è ora di riuscire allora si sei sei vincente? si si sei mi sono ok leo cosa? siamo ancora qui? si si che bello che bello si 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 ma anche questa qua dove cazzo atterrano? vedi che c'era la polizia è si si che grafica che c'era la ultima che lì meno male direi sembra molto più è della polizia porca no tutti quei baffi no va no quello no no c'è anche l'altro con il permeabile che ce l'ha vero ma quello lì non ha la faccia almeno il poverito su tutti i fredd ma per se vedi tutti i miei grazie perché lui è tutto bagnato l'ultimo asciutti e sta più bene video Leo. Buon lavoro, Vincent. Scusate, Leo. Scusate, Leo. No, lo stava solo seguendo. È della polizia, lui, quindi. Cazzo. Eri un infiltrato fin dall'inizio, quindi quella stracciata lì. So, l'è, cane. Quindi tutta la sua storia era una montatura. La cosa della moglie era tutta una montatura. ma magari la moglie è vero no di tu no c'è dei baffetti no no è da poliziotto è lo standard del poliziotto sì sì, sicuramente sei qui vai che pensi? uff stai saltando sul manzo ti ammazza ah è sempre più che pensavo è è è un piacere di lavorare con voi tu anche ok, lo ha fatto finalmente oh no no vai 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 non avevano mai detto che questo qua era un infiltrato era solo il figlio che fa eh no, noi non sapevamo cosa era stato qua quindi anche per lui era un infiltrato quello che è morto adesso perché guarda come si è preoccupato era un infiltrato ma prima noi non lo sapevamo ecco perché pensavano che fosse stato lui a ucciderlo dove è Harvey? dove è il black warlock? dici te sei? dici te sei? dici te sei sei fai dici te sei? dici te sei che tui vedi da te sei che sei dici te sei? dici te sei dici è tutto che ti fai suonare dici te sei? Hai capito? Non dirà una parola. Si, lo so. C'è solo una opzione. Poi prendere qualcuno. James, se vuoi che vuoi Harvey e il Black Orlov, questo è il solo modo. Poi mettere me in un cello vicino a loro. Mh-mh. Sei troppo vicino a questo, Vincent. Hai meglio senti questo. Gary era mio fratello. Mio carne e sangue. E' morto per me. Io lo metto in quella situazione. Ho bisogno di fare questo. E tu lo sai. Solo faccia succedere, James. Beh... Se fossero partner proprio di... Cosa... Se sarebbero preoccupati uguale. Però cazzo, se non un fratello proprio... Niente si muove! Ma che peccini? Ma che peccini? Ma che peccini? Oh! Ah ma devo scappare io tanto, è vero. Guarda qui camminati. Guarda qui camminati. Guarda qui. Guarda qui. Guarda. Non pessoalmente... Guarda qui. Guarda chi. Guarda qui. Guarda qui. Vai. non so che l'ha andato vabbè era un criminale lo stesso si, però... non è che devo guidare oh no stop the car and let's talk this through there's still a chance for you to do the right thing the right thing huh? the only right thing here is me pointing the gun right out of your face so shut up listen Leo, don't make this worse than it has to be worse? you're dead man talking how about that for us? mia però è stato un twist della madonna non lo sarei mai aspettato l'ultimo scontro l'ultimo scontro l'ultimo... ah no merda non fa culo era lo scontro finale stava mica tanto perchè col braccio di ferro ci distruggerà di robo ci siamo già distrutti cioè tanto rimaniamo alla pari quindi andava quello che dopo un po' smetteva cedeva del tutto smesso al barceler guarda si ora non è che non entra acqua dai un po' deve andare ma com'è fatto ad entrare da me? che siamo nella stessa cazzo di auto vabbè vabbè non è che l'ultimo non è che l'ultimo vabbè 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 Eh sì? Io dicevo la sorella, magari. Figlia di puttana, figlia di puttana! Guardate che pezzo di merda! Aaaaaah! Porca troia, dai! Nooo, nooo, io faccio cagare queste cose! Eh Dio! Sì, ma l'elicottero è buona! Porca troia! È tanta, però minchia, sei una mira del Cristo! Guarda, guarda! Porca troia! Oh, sarebbe bello, però puoi provare a fare il conto! Guarda, guarda! Guarda, guarda che, se non è uno contro l'altro, deviamo ancora accettare qui! Eh, io faccio cagare! Ma che droia! Ho quello sbagliato! Eh, niente! Io faccio... Nooo! Ma dai, c'è uno sputino di vita! 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 Porca troia! Eh, vabbè! Ma dai, che cazzo è? Eh, vabbè! Dio buono! Qua è... È ora che non sarà spesso di spugnare prima, perché... ...e... 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 ...sì, anche lì la barca, cioè... Eh, però questa è proprio una sfida! Altro che le sfide... ...che facevamo lì noi, eh! Eh... ...una vera e propria sfida! Orco 2! Cazzo, ma non è ancora finita! 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 Ma quanta cazzo è ancora lungo, Dio buono! Ah, con questa cazzo... ...cappuglione... ...dietro di gamba! Che vero! Vai là dentro! Leo, scusami... ...l'io lo siamo! L'io! Beh, loro lo stiamo, non sa l'io, eh! Eh beh, sì! Allora! Come on, hurry! Perché la E si dice I... Non lo so... Io mi sembra da... ...I'll go this way! All right! All right! Ma tu mi vedi! Eh, questa è una merda però! Scusami! Anche te mi vedi! Eh, ho capito! Però non è giusto! Eh, una bagaccia! Scusami! Scusami! Non fai niente stupido, Leo! Scusami! 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 Eh, io non voglio stagliare, Emily! Scusami! 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 Eh, no, la vedi! 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 Minchia, ma... ...certo che... ...l'apparita... ...fa un schifo... ...questa si può infergare ogni volta reale! Sì! Ecco perché lui faceva così tanto a chiare! Leo! E il tuo viso! Esatto! Il tuo viso! Isatto! E orgoglio! E fai appare! Scusami! Ancmi! Ogni! E in grande condono! I had to mandato! I can't fucking believe this! I'll talk to the captain... ...we'll reduce your sentence! My sentence!!! You're a dead man, you piece of shit! What about you son, Alex?! Shut the fuck up! Adon't you mention his name! You don't get to mention his name! You hear that, you piece of shit! You're a dead man! You piece of shit! a ridurre un po' la pera sai però la oh shit ah no ci siamo confusi col posto però questa qua è proprio cattiva no secondo me non dovrebbe esserci bisogna trovare non posso lasciarli non posso lasciarli dove andranno? aspetta qua ah ok non penso che ti arrivi nei proiettili dai ma io faccio cagare non sale eh questo sarebbe stato bello tipo online fare perché tu così mi vedi porca soia no io sto guardando la mia cosa non sto guardando il tuo schermo ah si con il reato tu non sei scherzo are you? io non scendo devi trovare non posso lasciarli non lo lasciarli non lo lasciarli per cazzo sono finito che bene stop hiding you coward ah porca troia ti ho visto i see you mission you can't hide from me damn it had enough i got plenty more bullets al culo al culo al culo al culo non lo so non lo so ma quando sparo miki c'è una mira ma non posso venire dalla tua parte merda ah no? no c'è un burrone guarda lì aspetta un po' non spariamo no no non ti sparo ti giuro non ti sparo guarda c'è un burrone io non posso venire no no fate un attimo eh mi sa che non puoi guarda c'è il burrone c'è porco due ah minchia io pensavo potevo farti il giro magari roba del genere invece no invece è un cazzo mia buona merda oh ma ah no ma non dobbiamo intaglierci tutta la vita no una barra tipo per se mi beh se mi inferi di te non penso a questa cosa non penso proprio però c'è anche se ti spero che tu dobbiamo comunque di nuovo combattere se non combattere di nuovo eh ma sì ma abbiamo la stessa vita è normale eh però io ti ho tolto più vita eh cioè vedi che alla fine praticamente sei tu che colpisci di me ugualmente e il punto cruciale sono io non te da giù a qui subito che cazzo sei? è l'uomo nero marca traia non aveva neanche perso tutta la vita però te lo immagini che bello sarebbe stato tipo online che non vedi l'altro quello sarebbe fatto una bella cosa se invece avessero fatto comunque metà schermo sarebbe stata una merda secondo te come sarebbe stato? no sarebbe stato metà schermo io adesso poi mi vado a guardare le live di tipo di gatto con qualcun altro che l'ha fatto e voglio vedere come che cazzo l'ha fatto ma ti mi sa che qua siamo qui ci possiamo vedere ho questo presentimento qui eh la vedi è una cosa tipo rotonda? sì eh allora sì questa paura che... hai questa paura? ma che cazzo di minorea dai oh è un caceroia un visuale come era prima mira caceroia ma mi sa che devo perdere io per forza ma non c'è neanche il buco nella franza no infatti non c'è neanche un po' di sangue non c'è ma come fai a non vederlo? dai si vede oh è un'altra aerea anche io ce l'ho ma pugni? sì però il gioco deve caricare eh cazzo però è una vincente è una vincente beh una bella scazzottata finale ci sta oh sì sfogliatevi nudi bagnati ma c'è gliela addosso che è pesante ma come cazzo? ma dai ma come gliela tiri? schivalo dio buono ma proprio sì ma non mi fa schivare adesso mica con tutta la vita che c'ho dio santo sì ma che merda di combattimento crepo dio buono no dai questo no non devo fare un cazzo no adesso dio buono che due cogliole sai cosa avrebbero dovuto fare? tipo che con R2 ti chiavi e L2 ti paravi e così iniziava la scazzottata che anche io se avevo poca vita ti potevo comunque battere tecnicamente anche se ne dubito però vedi far così cioè non ha senso lo vede vedere tutti i i cosi ma nel combattimento se togli un po' di vita uno vedi infilmate dell'altro oh poi magari dicono ti uccido io ma perché c'ho più vita ma poi alla fine prendi un po' di e ti sparo io e magari state a decidere se uccidi o comunque con i baffetti non si può vedere è inquartabile se dobbiamo subire però tutta questa tarantella dio buono cerca di perdere tutta la vita subito eh sì ma guarda quanta vita mi togli dio buono orca troia adesso cattavina minchia per santilario comunque cosa gli sarebbe fighissimo fare la corsa su santilario io non ci vengo perché c'ho una caglia sarebbe figo sai che fanno quelle corsa in paese in posti che giù si si più di la storia di santilario per la festività si ma io non penso che lo facciano con tutte quelle curve eh no guarda ci sta con le carte preparati con il quadrato io sono sicuro col quadrato chi è più veloce il vino ce la fa dio buono ma il mio è morto dai cristo ma io non ce la faccio dio buono e devo rimanere fermo così a subirmela c'è porco 2 mi hai sparato ti ho sparato non so se io ho sparato subito se ero obbligatorio o meno mi hai sparato subito chi se ne frega no ma sarebbe venuto scritto anche perché basta che premevo ah sai cosa secondo me se non tenevo tutta la mira al massimo non sparava e ti lasciavo ti lasciavo se eri così e ti lascia a voi in vita possibile possibile però così è più commovente più grammatica questo doppio schermo mi hai rotto i coglioni leo giustamente non si è voluto dire ah fanculo riduzioni di pena cosa tua madre togli mela del tutto la pena io gli avrei sparato però per farla più forse qua potevo rifiutare adesso poi i i ora 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 l'olio l'olio ora ora magari non non vengare prima ora non si è trattata che 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 si è fin ora 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 Però chissà se io posso uccidere a te Se raggiungi prima Forse ci sono quattro finali Se raggiungi prima l'arma secondo me anche te puoi decidere Ma sai che io avevo molta più difficoltà Perché avevo molto meno vita secondo me Perché io premevo Veloce mi sono spaccato di nuovo il dito E ci metteva molto di più a riempirsi Questo perché la vita fa tanto No Matti no Ma ti è tornato quel baffo E ora qua mi sa che è della sua famiglia Perché quella moto lì non è della famiglia Eh sì Ma hanno cambiato posto Eh infatti Eh no 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 è lo stesso posto E' la discopo anche noi E' la doppia famiglia Ciao Posso venire? Sì Ciao Lo finiamo No ha detto veramente No ha detto veramente lo saluta Non lo sanno loro secondo me Noi arriviamo Per me va bene dentro Vuoi giocare? Non adesso baby Dobbiamo parlare Allora Ora che era quella mortella mamma Secondo me Gli dice che è morto Sì sì Vabbè Non gli dice che proprio l'ha ucciso No magari poi Non gli dice che proprio l'ha ucciso Sì Ora si vede la chiama Bisogna vedere la reazione Mi sa che gli ha detto che l'ha ucciso lui Sì Mi sa che gli ha detto la verità Perché Si è arrabbiata quindi Vuol dire che Se gli avesse detto che Era semplicemente morto Non reagiva così Senti te hai mai rotto il cazzo Comunque la parcia Guardate la fanculo Ti rubo la moto Ma hai fatto Ma questa è lì Il finale Però è più bello Il finale da poliziotto Sì come si è rivolto Sì perché alla fin fine Cioè se non erano poliziotti Sarebbe Cioè Che magari si doveva affrontare Però sai Il ris Cioè secondo me ci sta bene così Che comunque Sì sì Che è una buona Più drammatica Secondo me ci poteva stare anche quello che magari Sopravviveva Lo risparmiava Sì Vabbè Però ad esempio Secondo me quello brutto Sarebbe Che leo uccidere il poliziotto Secondo me è il più brutto Quello Quello cattivo Forse Ah ora vado a come Torno a casa Però sai Secondo me ci sono quattro finali Perché magari è Leo Che può prendere Sì sì Che può decidere Sì sì Allora E' Allora Si è arrivato Porca troia Porca troia Qui Ma quando sei arrivato Maia ha preso il suggerimento comunque di Leo Avremo iniziato alle 5 Sì, è arrivato qua, 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 è arrivato qua Sì, è arrivato Carol, sono fuori Sì, per favore, dimenticare un'altra chance Se come un tempo avrai baffetti per riconquistarla, è il baffo Sì, è rimesso il baffo Però vedendo scherzando Noi abbiamo fatto già quattro episodi da quasi 50 minuti Ma ora te l'hai fatto tutto unico o l'hai scappato? Tutto unico Poi taglio dopo Poi prendo l'ora No, dico tutto pomeriggio, è tutto lo stesso Sì, sì Si fa anche più in fretta, così se dobbiamo stoppare, riavviare tutto e controllare il tempo È come registrare normalmente Cosa? Oh, non l'ho visto È giocato con la bambola Non l'ha manco letta Già l'è, è una bella casa Un bel appartamento Sì, ma mi fa un'idea, perché sono tutti tre i piani loro alla fine Perché c'è una porta sola I piani sopra come cazzo ci vanno i coinquilini? Hanno una... Eh, mica hanno un palazzetto Vabbè, oh, poverina, Cristo santo, cos'è? Ma se questa si sta provando con me Ma che cazzo dici? Passami la chiave inglese, intendeva però quest'altro Che foto di merda è? Ah, ha fatto quel bambino Sì, ma manco sta guardando la foto, Dio boh Manco? Manco, sì, vabbè Manco sta guardando la dedicata Sì, vabbè, quello intendevo, Dio boh Eh, vabbè, come se non sbagliassi Puttana, mi sputino un occhio E dopo mangiato se... Eh, sennò ci guardiamo qualcosa Sì, sì Noi facciamo quell'altro Come vuoi guardarci? Come ci... come ci... come ci... Andiamo a andare che... La cosa più importante sarebbe sapere se la Sara vuole fare qualcosa Ah, io non so, io alle 10 gli scrivo Sì, così Anche per esempio Sì, alle 10 gli scrivo Sì, se è Se non è qua Se non c'è più Se no... No, domani però fare tutta la... Tutta la giornata code Dove sarà bella pesante No, tutta la code No, perché cazzo... Eh, domani mattina io mi faccio dell'altro Sì, sì, domani mattina mi riposo Domani pomeriggio, se è, facciamo qualcosa Cioè, due mappe del cazzo Sì, con quattro mappe per modalità... Per cinque modalità diverse Può salutare Tanto se ci deve essere Tanto non penso Ah, devo farlo anch'io No, io non ho cliccato un cazzo Ah Mi sa che bastava uno dei due Presumo io Cioè, ci deve essere proprio un video finale A way out E va bene, dai Ragazzi Finalmente l'abbiamo finito Contenti Mi dispiace per quelli che sono qua su Twitch Che vedranno questa live Purtroppo se volete recuperarvelo Andate su YouTube Per quelli che invece hanno seguito la serie su YouTube Questo è il nostro finale Che Ce l'abbiamo fatta finalmente a concluderlo Il problema è che non sapremo mai se ci saranno altri finali Non lo saprete mai A meno che non se lo vanno a controllare Sì, vabbè Però noi non li faremo Anche perché Dovremmo Dovremmo Riprendiamo il capitolo Sì, il penultimo e ultimo capitolo Sicuramente Anche perché Se guardiamo Se controlliamo un attimo Se il gioco ce lo permette Dei capitoli No Era sbagliato Era sbagliato Ci dovrebbero essere soltanto Il penultimo e ultimo capitolo Orca Troia No, sì Conflitto Combattimento Una via d'uscita Sì E poi alla fine basta fare Faccia a faccia Basta fare l'altro L'ultimo L'ultimo Basta fare l'ultimo Sì, basta fare questo Eh no Perché questo qua è già impostato Così E qua secondo me È proprio quello della vita Magari te ti fai Ti fai abbassare la vita Tanto Finché non scappiamo Sì, sì E poi si vede alla fine Questo qua come va a finire Poi si può scegliere Se uccidere o meno Sempre se poi alla fine Non sei costretto Per forza ad ucciderlo Magari ci sono solo due finali E devi uccidere per forza Uno o l'altro E quello non si può sapere Finché non Non lo si fa Però noi lo andremo a scoprire Poi Eh va bene Tanto è nel cartone Non arriviamo Minchia Una volta È arrivata alle otto L'abbiamo mangiata Poi alle dieci e mezza Se non mezzanotte Con da Non era fredda Era tiepida anche Vabbè Comunque Raga Grazie a tutti di essere passati Grazie mille della compagnia Grazie mille della compagnia Non mi ricordo neanche più Come cazzo facevo Grazie mille della compagnia Eh sì vabbè Spero che il video E la serie Vi siano piaciuti Vi invito A passare su Twitch Per vedere dove troverete Me che faccio le live Su YouTube ovviamente Con i video montati Niente Raga Vi do appuntamento Alla prossima Con un'altra serie In compagnia Ravvicinata purtroppo Nel ramingo Nel ramingo Nel ramingo Che cazzare Va bene Ciao a tutti Nella prossima Ciao ciao